Ora facciamo così Chiudi gli occhi Chiudi Un saluto a voi Un abbraccio a tutti Chiudi Guarda su Guarda su Lo sai? Su così Sono proprio dimenticato A pensare che L'ho detto io a altre persone Domenico, Domenico, Domenico Ma non c'è pensato proprio nessuno Guarda su Che è sembrata la registrazione Un paese Si 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 Poi Poi ha fatto vedere un po' il fiordo Con la chiesa Con la chiesa Un paese Anche Con la chiesa Camper Questa trasmissione Questa trasmissione che hai visto Con l'anno dal 25 febbraio al 12 martesì sul sito sul sito per i borghi più belli d'italia in modo che se ne riusciamo a prendere il premio facciamo i borghi più belli d'italia guarda in basso oggi è la prima giornata che ha fatto più freddo io lo so lui se io e se lui lo fanno guarda Giovanna guarda che vado a questo a Giovanna guarda un bacio a Giovanna ah ma lo sta facendo poi in diretta la prossima ti porto dei trucchi adatti per questo 6-7 porzini non riuscite a ricordare che ha fatto con chi le mangiavano mangiare, mangiare, mangiare un po' la facendo un po' la facendo aspetta che lo stiamo facendo ecco così come voi, io ho fatto l'ovietto non mi ha dato che ho fatto un po' la facendo 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 una cosa che ci dà così perché vedi? è come se c'essero fatta caricare cose un po' la facendo cosa guarda guarda il lato un lato perché un po' la facendo il un po' la facendo il è bene è dipingi questo guarda giù giù guarda giù grazie portate lui gli altri non è più non mi piace né no non mi piace niente ecco qua porti due porto non mi piace trovo per pegliato ducoli per là ma ce l'ho ma non ce l'ho tu quando non ce l'hai come te le maglie tu non sai stai a prendere stai a prendere si si tutto qua io tutto qua ciao 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 dopo qua ce le labre pure ma che miscuglio che stai a fare scusate un po' no il cuore dopo come faccio per lavorare il cuore ancora no non è il cuore non è il cuore non è il cuore aspetta 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 sangue ecco ecco fatto il cuore dai qua la faccia un po' un po' un po' non così stai a prendere il cuore c Stai a prendere il cuore qui sce qua 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 c'è Sì? Che ho fatto? Oh, proprio con un lettino, quindi volete un lettino. E mi siete da adesso, dice, giusto? Basta, basta così. Metti, metti. Chiudi gli occhi! Chiudi gli occhi! Buon aprire! Non hai bisogno di fare tutto questo! Stai rovinando tutto! Chiudi gli occhi! Ecco un vero, è che si sono male! E giusto sui, non sa vola? Chiudi all'accusa! E poi che fai? No, no, no Già l'ho fatto Non so che voglio fare No, dove la metti? Non è, questo non si mette così E questo? Sì, lo so Ah, io sto buttando tutto Ah, è pronto Ah, io, quello fa male Non ce l'ha la punta Dobbiamo un temperamatita Io ce l'ho il temperamatita Aspetta Basta, basta così Uno, un colore devi prendere Non tutto Ti devo truccare, stai fermo Questo è il cuore Perché? Sì, siamo Dovente E' una persona in giusto Quindi siamo due persone Sì, due persone Per quanto riguarda questa luce? Per quanto riguarda questa luce? Pianzioni... Banzi Oggi ospital poterà agli inossosi risolveri Mhhh Si abbiamo detto Abbastanza comandante Pianzioni 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 Questi qua No, no, questi, questi, questi Ecco, così sono più scurri Ho capito? Pianzioni 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 Pianzioni